Il lavoro pubblico è fondamentale per lo Stato, lo sono i singoli dipendenti, le persone che a volte in assenza di stimoli, di motivazione, lavorano e ottengono risultati con una responsabilità personale che fa loro onore. Vorrei nel pubblico trasmettere l'importanza delle persone. Non è vero che non cambia niente, non è vero che non cambia niente. Io credo che cambi tantissimo non solo se state o non state a lavoro, ma cambia tantissimo anche come state a lavoro. Il ministro Buongiorno, visitando la sede di Roma in collegamento con quelle di Napoli e Cagliari del Formez, parla di motivazione, di progetti eccellenti portati avanti dall'Istituto, nonostante la politica abbia evitato indirizzi per un ente che ormai vive il suo quarto anno di commissariamento. Il fatto che i concorsi che voi riuscite a organizzare restino delle punte di eccellenza significa che sono delle punte di eccellenza che non sono create da un sistema, perché per ora il sistema non vi sta aiutando, perché il sistema è quello che per ora vi sta trascurando, ma che sono state create a ciascuno di voi. Il reclutamento è una delle battaglie del ministro Buongiorno, che conta di fare nuove assunzioni mirate in settori strategici per ringiovanire l'APA di personale e competenze. Da qui l'importanza di nuovi concorsi pubblici, un momento strategico per il funzionamento futuro dell'APA. Sia per il tema della quota 100, sia per il tema che voglio riuscire a fare in modo che anche i concorsi dei comuni vengano fatti da noi, allora a quel punto voi potete essere protagonisti. La sfida è come faccio a fare più concorsi che non mi costino troppo e che riescano ad avere tempi ridotti per la correzione. Si delinea così un ruolo nuovo del Formez, che si avvia verso una riorganizzazione, una fine del commissariamento con un potenziamento dei progetti in corso. La Calindro, io la stimo moltissimo, e verrà questo momento di ponte, fino a che non farò questa nuova riorganizzazione. Aiutatemi a farla bene. Grazie.